Siamo qui con Martina Montemezzo, giocatrice del Vicenza in rete oggi nella vittoria del 3-1 su Rizzone. Martina, complimenti per questa vittoria e dopo un primo tempo piuttosto equilibrato nella ripresa siete riuscite a prevalere. Cosa avete fatto per riuscire ad ottenere questa vittoria? Sicuramente quando siamo stati negli spogliatoi abbiamo ragionato su quello che dovevamo mettere di più in campo, cercare di cambiare un po' i nostri registri e secondo me l'abbiamo fatto bene e alla fine si è visto in campo, quindi siamo felici. Una buona prestazione di squadra soprattutto nel secondo tempo dove siete riuscite a creare molti pericoli, siete riuscite anche ad andare in rete, quindi vuoi raccontarci un pochettino l'azione del gol, com'è andata? Ero sulla fascia sinistra e la mia compagna Maria Chiara Bauce mi ha dato questa palla perfetta, poi ho cercato di superare il difensore e alla fine ho fatto un tiro in scivolata perché altrimenti non sapevo come fare e alla fine è entrata, quindi sono felice ma ringrazio anche tutte le compagne che mi hanno sempre supportato.